Il profondimento di quest'oggi, ovviamente siamo sulla emergenza sanitaria, sull'emergenza anche e soprattutto sulla ripartenza, perché esattamente fra una settimana, se tutto andrà secondo le previsioni, secondo i calcoli, secondo anche le speranze di migliaia di loro, anche i ristoranti potranno finalmente riaprire dopo tempo in memore e allora con uno di loro che è con noi, Fabio Fossati, lo saluto e lo ringrazio, facciamo un po' il punto della situazione e vediamo un po' com'è la situazione, insomma non è delle più semplici a quanto ci diceva Fabio, sentiamo un po', intanto Fabio buona serata, grazie di essere con noi. No, grazie a voi come sempre dell'invito, è sempre un piacere partecipare a questa trasmissione. Mi fa piacere caro Fabio, allora sette giorni, meno sette alla ripartenza, però com'è la situazione? Sei pronto? Siete pronti? Allora, per essere pronti noi dall'inizio dell'anno che siamo pronti è la voglia di lavorare, il problema è l'apertura del 26, il problema come sarà questa fatta apertura? Come sarà? Lo chiedo a te, lo chiedo a te, no la voglia, Fabio, la voglia ovviamente l'intenzione è quella di ovviamente di ritornare perché credo vi manca da tantissimo tempo il rapporto con i clienti, però, 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 dimmi un po'. Però, allora, niente, come ti dicevo, l'apertura del 26 hanno messo dei paletti che secondo me personalmente e altri amici ristoratori non vanno bene, te lo spiego uno semplicemente che tu al 26 puoi far mangiare all'esterno, però ragazzi qui una domanda è semplice, e se piove come facciamo a farli mangiare all'esterno? Come ci organizziamo? Come tu puoi organizzare una banchettistica, un qualcosa a dire sì venite a mangiare, però guardate che a momento aspettiamo il tempo, cioè è un po' un problema, io non so quei signori qui come hanno fatto a mettere questi paletti, oserei dire peggio ancora del primo decreto. Sostanzialmente Fabio, siete intanto, scusami, saluto tantissime persone che già ci stanno guardando, Stefi per esempio, ci ha scritto Alessia, buonasera Michela, Isa, buonasera Vanessa, Agnese, poi saluto Alessia, dice, è un po' una presa in giro dei tantissimi ristoranti che non hanno spazi aperti, Roberto, buonasera, bisogna dare una mano, e questo è giusto, dare una mano ai ristoratori, tra poco poi ne parliamo, poi anche Isa dice, lei che lavora ai centri commerciali, a ristorazione ai centri commerciali, quindi ancora peggio, sicuramente, come si fa? Ecco dicevo, quindi Fabio, tanti che ti stanno guardando, è bene, quindi ci fa piacere, però siete un po' in balia del meteo sostanzialmente, giusto? Adesso io lo dico ridendo, ma non c'è poco da ridere, credo sicuramente, perché come si può programmare anche per fare la spesa, voglio dire, dovreste anche organizzarvi, giusto? No, hai perfettamente ragione, loro hanno fatto i conti senza l'oste, ti ripeto, come fai a organizzare una banchettistica, oppure sì, anche a mezzogiorno il menù dell'operaio, a lavorare, ma se piove io queste persone qui, come tanti altri, dove li mettiamo? Ti faccio una battuta, che gli diamo in mano? L'ombrello e una giacca a vento? Signori, state lì di fuori, cioè dai, è pazzesco. Ti ripeto, loro era meglio prima che ti dicevano, guardate, lavorate al mezzogiorno, fino alle 18-19, chiudiamo tutto, eravamo no contenti, si sopravviveva così, ma in questo caso non riesci, non ce la fai, è un sistema sbagliato, io non capisco perché non chiamano le categorie o qualcuno che ci rappresenti, loro mettono giù quattro cavolate senza fare i conti, ed è sbagliato. Io credo che però voi avete delle buone rappresentanze e credo che comunque anche voi, credo come rappresentanti, no? Penso vi potete far sentire, però probabilmente, esatto, in effetti fanno un po' i conti senza l'oste, passami il termine Fabio. È un po' così, hai ragione Fabio, dice Isa, ti saluta Emanuela, Emanuela dice ma vale anche per i bar? Ecco, questa cosa io non l'ho capita ancora, sinceramente, tu l'hai capita Fabio? Secondo me sì, allora secondo me, attenzione, io voglio pensare anche in positivo, magari cambia di nuovo il decreto perché non c'è ancora un decreto. Domani c'è un incontro con il comitato tecnico che quindi probabilmente darà delle linee guida, forse speriamo, più precise e più chiare, è sicuramente. E magari ci faranno lavorare all'interno, ma io sono contento, ripeto, rispettando i parametri che avevano dato al primo long down, cioè la distanza, quattro persone su ogni tavolo, ci hanno fatto spendere di più e di tutto, e adesso hanno cambiato completamente tutto. Questo, signori, non è un buon senso, non esiste un buon senso in questa maniera, così non fai lavorare. Tenetelo di più, a Milano, a Milano un bar e ristorante su due non ha la possibilità di lavorare all'esterno, ma presumo anche a Como, anche da noi, eh? Esatto. Potremmo fare? Prego, prego. No, no, dicevo Fabio, ecco, e poi giustamente, ecco, quella che va anche sottolineato, come dicevi anche prima, per essere brianzoli, no? Tu sei un concreto brianzolo, e far mangiare la gente a luglio, a giugno, magari anche fuori, vabbè, ma ad aprile forse, eh? O a maggio, diciamo, eh? Come si fa a farli mangiare fuori? No, no. Dimmi. No, non ce la fai, non ce la fai, perché guarda, io ti racconto, è una cavolata, a maggio da noi si usa, fanno la processione della Madonna, il rosario, io tutti gli anni faccio fare un rosario con la mia madonnina, noi da tre anni a questa parte che non riusciamo a fare il rosario per il freddo, cioè, capito cosa voglio dirti? Quindi, tu pensa a far mangiare fuori le persone, ma no, dai, è assurdo, è assurdo, ma va. Graziella dice il dramma delle palestre chiuse, ecco, e questo è un altro problema, grandissimo, Silvana, la rabbia è che gli hanno fatto spendere soldi per le regole del distanziamento e poi li hanno fatto chiudere, Rob De Mat. Alessia dice, vorrei conoscere il comitato tecnico scientifico, ciao Giovanna, buonasera, buonasera Annalisa, buonasera Isa, tutte o quasi tutte le attività hanno riaperto, noi della ristorazione chi siamo, dice Isa? Ristorazione all'interno di un centro commerciale, effettivamente anche loro sì, in effetti possono essere considerati un po' i parenti poveri, se mi passi il termine, ma è detto così purtroppo, ma è un dato di fatto. Non hanno nemmeno una minima idea di che cosa voglia dire lavorare questa marmaglia politica, dice Walter. Allora, noi, ripeto, stiamo cercando di fare un po' il punto della situazione, poi ovviamente cercando di essere concreti, ecco, non vogliamo mettere poi in mezzo le polemiche, ci mancherebbe, ognuno poi può esprimere la propria opinione, nel limite, nel rispetto, e lo dico sempre, mi raccomando, mi raccomando. Buonasera da Raffaella, ciao, grazie Raffaella, buonasera a te. Quindi, caro Fabio, io ho voluto sentire perché a sette giorni dalla fine di questo periodo così critico, io ho detto, beh, immaginavo di trovare ristoratori contenti, felici, in realtà, in realtà, mi pare di capire che, giusto, non ci siamo così ancora, Fabio. Ma no, ma assolutamente, ma non, ti ripeto, hanno fatto dei parametri che non servono a niente, cioè non esiste lavorare, ma proprio è assurdo quello che hanno detto di aprire al 26 solo all'esterno, e se non erro anche da maggio, poi dal primo giugno puoi mangiare dentro. Domanda semplice, da quanti mesi che siamo chiusi? Sei mesi? I contagi sono diminuiti o sono aumentati? Signori, non è colpa, io non capisco, perché hanno un accanimento contro la ristorazione. Sembra che la colpa del virus sia dovuta ai bar e ristoranti. Senti, guarda cosa scrive Elena, un altro spunto interessante, perché effettivamente anche io ho visto, sono passato due settimane fa, e dice Elena, ma in autogrill? E in effetti non ha tutti, anzi no, in effetti Elena dice una cosa che anch'io ho visto negli autogrill, è diverso, perché quindi, bah, noi dei centri commerciali più gli ultimi fessi, dice Isa, assurdo, credo ci sia molta rabbia, ovviamente, nella speranza, aggiunge Emanuela, che il comune possa concedere gratuitamente lo spazio esterno. E questo poi vediamo un po' da comune a comune, ovviamente. E Fabio, quindi sì, insomma, stiamo rappresentando una situazione non delle migliori, sostanzialmente. No, non siamo usciti da per niente bene, cioè, poi anche il discorso hanno messo in tuo servizio messa. Io, ad esempio, sono uno dei primi, e ho tanti amici che, io parlo della mia provincia qui, che fanno il servizio messa. Fabio Fossati, lo ricordiamo, ristoratore di Inverigo, è noto, conosciuto, con la sua trattoria Edda, che è pronta a ripartire, molti ovviamente la conoscono, ma al pari di Fabio ci sono decine, centinaia di tuoi colleghi, eh Fabio, che sono pronti a rimboccarsi le mani, che anzi anche domani mattina accenderebbero i fornelli tutti quanti. Porco cane, ma stai scherzando. Eh, lo so, lo so, lo so. Adesso noi, per sopravviene, facciamo questo servizio messa, come molti miei amici ristoratori, ma i numeri sono bassi, perché se io ti racconto il servizio messa, tu direi, ma tu sei pazzo. Il servizio messa, te lo racconto in breve, è dovuto, cioè, io posso far mangiare un titolare con la partita IVA e con i suoi titolari, con i suoi operai, ok. Il padroncino partita IVA senza dipendenti non può mangiare, questa è una solità. Ah, questo non lo sapevo, quindi il padroncino no e invece gli operai sì. Il titolare con i dipendenti sì, ma te ne rendi conto. Questo non lo sapevo, in effetti viene quasi, viene spontaneo chiedere che cosa cambia. Che cosa cambia, perché tu non fai, non diventa una messa, però il bergamasco che arriva a casa tua inviancare, tu me lo mandi a casa mia a mangiare, io non lo posso prendere, è pazzesco dai. Signor Fabio hai ragione, dice Clara, io neanche a mezzogiorno quei poveri operai li lascerai fuori a mangiare. Buonasera da Dario, buonasera, ecco Arcangela dice giustamente, in tono un po' ironico, dice se non piove. Ecco, perché questo alla fine sostanzialmente Arcangela, e Annalisa anche lei dice leggi ridicole, Arcangela dice poi e riassume, no Fabio, quello che stavamo dicendo in questa nostra chiacchierata a una settimana da quello che io mi auguro, io ve lo auguro veramente di cuore che voi possiate riprendere. Però certo, se sei in balia poi delle bizze del tempo, tu che sei un ristoratore, come fai ad andare a fare la spesa? Che cosa compri? Tanto, poco, la carne, non la carne? Cosa compri? Cioè capisci, diventa un po' difficile, giusto? No, ma poi andremo a fare una guerra tra i ristoratori, perché un ristorante che ha 300 coperti all'esterno e ne ha 10 all'interno, viceversa, quello che ce l'ha all'interno non ce l'ha all'esterno. Andremo a, non dico a farci del male, però verrà una guerra tra poveri, vedersi non è così, ma sarà così senz'altro. E molti non riusciranno neanche a prendere, perché non hanno la possibilità dell'esterno. Ma che cavolo, dai, ma va. Non va bene così, non va assolutamente bene così. Anzi, faccio una battuta, io inviterei il comitato, o chi ha inventato questa cosa qua, al 26 tutte le sere di venire a mangiare nei ristoranti, ma non sul mare, qui da noi, per vedere com'è il clima. Esatto, in Brianza, ma tu pensa, i tuoi colleghi che sono su, non so, in Valcavarnia, piuttosto che su nelle zone un po' più triangolo lariano, vuol dire, è ancora freschino, giusto? No, però io dove tira la breva. Eh, dove tira la breva, bravo Fabietto, bravo, infatti, assolutamente sì. Vabbè, è sempre piacevole parlare con te, è chiaro che Fabio, no, abbiamo voluto però rappresentare un po' questo che è un po' il problema, ovviamente, di voi ristoratori, a pochi giorni da quella che tutti però si augurano possa essere davvero una definitiva ripartenza, e ce l'auguriamo davvero. Allora, tanti ancora che ti salutano, caro Fabio, insomma, ti sei conosciutissimo. Condivido quello che dice mio fratello, ah, c'è anche tuo fratello Ivan che ti saluta, ciao da Ivan, ciao Ivan, un saluto poi da Emanuela, e poi cena col coprifuoco alle 22, giusto? Ha ricordato anche questo. Ciao da Moltrasio, quando finirà tutto? Dice Angelo, non vedo l'ora, eh, Graziella, ciao, un saluto a te, un saluto a Maria Rita, se non piove fa ancora freddo, ti rimane sullo stomaco tutto. Dai che arriviamo, dice Laura, Lorenza, pensa che bello mangiare fuori a 1500 metri, esatto, ma poi rimane il coprifuoco alle 22, chiede Alessia, al momento sì, giusto Fabio, il coprifuoco? Al momento sì, al momento sì. Quindi devono mangiare fuori, ma alle 22 li devi cacciare? Sì, 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 ma no, no, è pazzesco. Ti ripeto, a meno che cambiano qualcosa, giovedì si trovano, mi pare, magari cambiano qualcosa, non lo so, io voglio essere positivo. Marco dice una cosa, dice, anche perché sembrano una barzelletta, da lunedì piove, ma è vero che le previsioni sono brutte Fabio, da lunedì no, non ci credo. Io ho guardato così il meteo, non lo guardo mai, l'ho guardato, da lunedì 26, addirittura al primo maggio danno acqua, non voglio dire niente. No, adesso, è vero, non dire niente, fermati lì, fermati lì. Non voglio dire niente. No, va bene, abbiamo cercato anche di sdrammatizzare, Fabietto, come tu sai, immagini, è una situazione difficile, dai, oggettivamente. Intanto vedo che tanti ti salutano, tanti scrivono, tanti stanno interagendo, li salutiamo tutti, ovviamente, cari amici, grazie. Bello fresco, dice Clara, eh certo, manderei fuori quelli del governo, già, eh vabbè, vedremo, magari a loro, andranno anche loro a Roma, non lo so se lo faranno, però effettivamente, ecco, in Brianza, in Brianza, ma per non dire appunto magari Triangolo Lariano, oppure Alto Lago, dove come giustamente ha detto Fabio, c'è la breva, vabbè, al momento è un po' presto. Fabio, quindi per ricapitolare, dovesse essere che tutto riparte, sperando che nel tempo sia meglio, che sbagliano gli esperti e che lunedì non ci sia la pioggia, ma è bello, comunque sei pronto, cioè avete voglia, insomma, di ritornare, eh? Sì, no, no, noi saremo pronti, io te lo ho detto, io tra parentesi sono fortunato che io posso mettere l'esterno, i tavolini li posso mettere, io preparerò domenica se non piove, è logico, per essere pronti, perché bisogna essere positivi e essere pronti a ripartire, perché io, ti ripeto, io sono sicuro che quando ripartiremo e manca 300 metri, ragazzi, al traguardo, saremo tutti contenti e lavoreremo tutti, guarda, saremo stanchi del lavoro, vedrai se non è così, io sono sicuro. Io te lo auguro, Fabio, te lo auguro, lo auguro a te, lo auguro a tutti i tuoi colleghi ristoratori ai quali vanno un grande abbraccio, un saluto ad Antonia, buonasera cara Antonia, buonasera Mary, si può passare il confine con la Svizzera da lunedì? Non lo so, Mary, prometto che chiederemo al Presidente Fermi che viene giovedì a trovarci, non lo so. Isabella dopo il danno la beffa, se comincia a piovere, infatti, incrociamo le dita, speriamo di no, mangiamo con la giacca a vento e vin brulee, dice Sabrina, un po' di ironia, allora ciao Anna Maria, un saluto ancora ad Arcangela, fino a che non avremo fatto i vaccini, dice non finirà. Allora, ecco, vedo che anche questo è un tema caldo, questo della ristorazione, stamattina abbiamo parlato di benzina, questa sera abbiamo parlato della ristorazione, io ringrazio davvero Fabio, Fabio, un'ultima cosa, scusa, mi stavo dimenticando, prima di lasciarti, tu sei anche uno che al pari di tanti tuoi colleghi fai tanti banchetti, questo è il periodo dei banchetti, cresime, comunione, matrimoni, ma come vi dovete organizzare per il momento? Allora, adesso come adesso non possiamo, io personalmente non mi posso permettergli prendere la banchettistica, perché non so come lavorare, cioè come fai? arrivano 30 persone, sì va bene, domenica venite a mangiare, e se piove io dove li metto, cioè capito? L'interno non lo puoi fare, di fuori, io ho gli ombrelloni, non ho un Deor tutto coperto, ma non ce l'ha nessuno, non ce l'ha nessuno, quindi siamo bloccati, il lavoro è bloccato come l'altro lockdown, assolutamente. Sì perché soprattutto un banchetto, io Fabio mi immagino com'è difficile allestire un banchetto, già non è facile, figuriamoci adesso con... Ma no, non puoi, non puoi, non puoi fare niente, sei bloccato... Agli invitati, magari la domenica direi, ecco oggi purtroppo non possiamo farlo perché piove. Vabbè, Claudio Casartelli ti abbraccia, conosci Claudio Casartelli, rappresentante di Confesercensi, ciao Fabietto, anche te, un caro saluto a Claudio, a Isa dice mangeremo polenta e brasato, eh vabbè, ciao ad Angela, saremo rovinati, dai speriamo di no Angela, dai me lo auguro davvero, io che lavoro nella ristorazione, dice Isa, emette delle faccine tristi, vabbè, effettivamente... assolutamente, lunedì c'è il sole, dai, c'è il sole e speriamo davvero di poter venire lì e testimoniare la ripartenza, timida o non timida, vediamo un po', intanto saluto davvero e ringrazio Fabio per... poi c'è un'altra ristorata, ah ci scrivono ancora tantissime persone, Giulia da ristoratrice, non so come sarà, un abbraccio anche a te cara Giulia, un saluto ad Isa, un saluto a Francesca, noi negozianti di confine, dice stiamo soffrendo della chiusura della dogana, eh anche quello è un problema, ciao grande Fabio, dice Clara hai mille ragioni, dovrebbero lasciar mettere i tavoli fuori senza fargli pagare in questo periodo, questo è un altro discorso Meri, ma effettivamente speriamo sì, ah Isa lavora la trattoria del Fagiano, va bene, un saluto anche a voi, cari a Isa, a te, a tutto lo staff, un saluto lo faccio a Fabio, ai tuoi fratelli che ti stavano seguendo, ai tuoi clienti, sperando di vederci, lunedì senza ombrello, senza giacca a vento, va bene Fabio? Grazie, grazie a voi, io che cosa vi posso dire ragazzi, non molliamo, è dura ma non molliamo, dai che ce la facciamo, prepara i tavoli, mancano 300 metri al traguardo, l'hai detto te Fabio, dai prepara i tavoli, dai Fabio grazie, a presto, in bocca al